Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Ha secondo lei una contrapposizione tra europeisti, atlantisti e filorussi? No, no, sarà molto peggio. Saranno due coalizioni dove dentro ci sono atlantisti e filorussi. Da una parte e dall'altra. Sì, per cui sono due coalizioni esattamente come quelle che si sono già presentate, che non governeranno mai niente. Perché il Movimento 5 Stelle come fa a governare con il Partito Democratico che non la pensano nello stesso modo né sui termovalorizzatori, né sui ragassificatori, né sulle infrastrutture? Sono alleanze forzate, dice lei. Sono alleanze finte, come abbiamo visto questa legislatura. Quello che noi possiamo fare con Più Europa, con liste civiche, è costruire un terzo polo alternativo. Cioè presentandovi da soli? Da soli, con Più Europa, le liste civiche. Deve fare un polo che dica, guardate, a noi non ce ne frega niente del discorso tra destra, sinistra, fascisti, comunisti. Quello di cui parleremo, come abbiamo fatto a Roma, prendendo il 20%, è come si fanno le cose, perché si devono fare, quanto costano, come le si fanno. Perché questa è la politica. La politica è governare o presentare un piano di governo vero. Non dire, lavoro, reddito di cittadinanza, energia, andiamo col vento e col sole, che sono intermittenti e quindi non ci si può andare. Cioè raccontare palle per illudere gli italiani a secondare il desiderio che un pezzo del Paese ha, che è voglio fare come mi pare. Mi dici una cosa, perché a Roma lei mi pare il primo partito, no? Pensa che questa operazione, giustamente, possa poi estendersi a tutta Italia. I sondaggi vi danno sopra il 5% costantemente, quindi sono dei buoni sondaggi. Come pensa di poter attrarveli questi tanti italiani? Intanto, guardi, i sondaggi, quando io ho iniziato a Roma, ci davano al 7%. Abbiamo preso il 19% lei. C'è una grandissima voglia di un'alternativa a un modo di fare politica che è stato solo rumore. Ed è un'alternativa che sia azione, come il nome del partito, cioè che sia ti spiego come faccio le cose. E non le qualifico dicendo se dici questo sei un fascista, se dici questo sei un comunista. Senza dare etichette, dice lei, ma tra questi elettori potenziali ci sono i famosi moderati, ammesso che esistano. No, guardi, ci sono le persone che si sono stancate di questo. Lo dico su Roma chi c'era. Metà di centrosinistra e metà di centrodestra. Che sono cittadini seri, per bene, normali, che dicono, ma basta, non ce la facciamo più. Non è possibile andare avanti sempre nello stesso modo da 30 anni. Senta, mi dici soltanto...